Amico mio, io ho cominciato in un'altra epoca. Io ho studiato recitazione come uditore all'Accademia di Arte Drammatica, dove però non mi presero all'epoca, quindi ero semplicemente uditorio, ho seguito qualche lezione. Poi ho studiato da privato. Il grande Leopoldo Mastelloni, per esempio, mi ha insegnato tanto. Fioretta Mari mi ha insegnato tanto. Claudia Giannotti, attrice di teatro straordinaria, scomparsa da poco, mi ha insegnato tanto. Geppi Gleieses mi ha insegnato tanto. Carlo Giuffre mi ha insegnato tanto. E poi, quando sono entrato al San Nazaro, chiaramente con Luisa Conta, Enzo Cannavale, Giacomo Rizzo, ho imparato tutto quello che c'era da sapere sulla comicità. Tato Russo mi ha insegnato tanto. Io sono stato molto fortunato, perché ho avuto la possibilità di lavorare e di imparare direttamente lavorando, da grandi, grandissimi. Chi comincia oggi, chiaramente, purtroppo, questi grandissimi non ce li ha più a disposizione. Ma si può fare lo stesso. Amore di zio, ma ha 21 anni. Mi dispiace, ti vorrei aiutare. Purtroppo non ti conosco, non so chi sei. Non so che studi hai fatto, non conosco le tue ambizioni. Spero che tu riesca a trovare presto una strada. Hai 21 anni, hai il mondo davanti. Tu sei, cioè, amore mia, ha 21 anni, il mondo è tuo. Ma la forza, la curiosità per andare in giro a guardare, cercare, vedere, capire, purtroppo quella non te la può dare nessuno. Ma io sono certo che tu ce la puoi fare. Io sono centocento che tu ce la fai. Ma poi c'hai leoni, c'hai sto cognome così importante. L'ora è, cioè, trova la forza per andarti a guardare intorno e trova la curiosità di voler vivere la vita che tu pensi di meritare. Perché a 21 anni tu ti puoi meritare, puoi solo pensare di meritarti il meglio. In bocca al lupo, a zio. In bocca al lupo. Tu sei gentilissimo, amico mio. Io ti ringrazio, ma io non faccio il promotore finanziario. Io non invito nessuno ad investire alcunché. Ci mancherebbe altro. Io non mi occupo di questo. Io semplicemente pubblicizzo una piattaforma che ho utilizzato io per comprarmi le cose e per aumentare il mio patrimonio. Ma io non mi sognerei mai nella vita. Fare il promotore finanziario, invitare le persone a fare degli investimenti, è un mestiere serio. Si studia, ci si laurea. Io non c'entro niente. Io pubblicizzo una piattaforma così come pubblicizzerei un ristorante se mi fossi trovato bene. E ti direi, vieni a mangiare in quel ristorante. Semplicemente pubblicizzo una piattaforma. Cosa vende questa piattaforma? Oro 24 carati, titoli obbligazionari, cripto ed FFT. Ma io non invito nessuno a fare investimenti, perché non faccio il promotore finanziario. Ti ringrazio infinitamente di questo messaggio e di avermi dato la possibilità di chiarire la mia posizione. Ti abbraccio. Che ecco, devi studiare. Io adesso non so tu di dove sei, ma diciamo che oggi le strade per fare l'attore sono, per quanto riguarda il teatro, l'Accademia del Teatro Bellini di Napoli, lo stabile di Milano, il piccolo di Milano, chiedo scusa, lo stabile di Genova. Non ci sono moltissime possibili. Forse anche lo stabile di Catania. Non ci sono moltissime altre possibilità. Altrimenti l'Accademia Cinematografica di Cinecittà. Il centro sperimentale di cinematografia. Questi sono gli studi che potresti fare per ambire alla carriera di attore, in un caso o nell'altro. Ti auguro il meglio. Spero che tu riesca a trovare prestissimo la tua strada. Spero che tu riesca a fare la carriera che meriti e che poi cercala con tutte le tue forze, impegnati con tutte le tue energie e vedrai che l'impegno paga sempre. L'impegno e lo studio pagano sempre. Ti auguro il meglio. Massimo rispetto per chi lo fa. Non mi interessa. È un ambito per il quale bisogna essere veramente e giustamente molto preparati. Così come dici tu, ho conosciuto proprio da poco in Spagna un ragazzo che si occupa di questo, ma che ha studiato e laureato, cioè insomma è uno che fa questo proprio per mestiere. Non mi piace perché è un mercato troppo speculativo, ci devi stare molto dietro. Io preferisco degli asset che mi diano più sicurezza, meno impegno, ma non che non mi voglio impegnare. Attenzione. Al trading ci devi stare proprio dietro e devi avere delle competenze notevoli per poter far fruttare i tuoi investimenti in un certo modo. Quindi a me personalmente non interessa minimamente. Massimo rispetto per chi lo fa e grande ammirazione, grandissima ammirazione per chi riesce a trarne profitto. Ti abbraccio forte forte, un abbraccione grande.